Musica Tere spettatori ben ritrovati con l'informazione di Terediogene. In primo piano l'aeroporto di Crutone si è tenuta ieri a Catanzaro la riunione convocata dal presidente della regione Mario Oliverio a cui hanno partecipato tra gli altri il sindaco di Crutone Peppino Vallone, l'assessore regionale all'ambiente Antonella Rizzo, la consigliera regionale Flora Scurco, c'era anche l'assessore comunale ai lavori pubblici Devona. Oltre a sette degli otto sindaci convocati, sindaci dei comuni riveraschi della provincia. Sentiamo come è andata, ce ne parla il sindaco Vallone. Ieri c'è stato l'incontro alla regione con il presidente della giunta regionale sull'aeroporto. Gli otto sindaci del territorio della provincia di Crutone, di Vieraschi, quelli che prendono le royalties del metano, siete stati convocati dal presidente Oliverio. Era assente il sindaco di Isola Capurizzuto che si è giustificato in quanto era a Roma, ha dato telefonicamente la disponibilità a tutte le operazioni possibili e immaginabili per salvare l'aeroporto. E allora, Vallone, che cosa avete deciso? È un ragionamento che stavamo facendo da più tempo. C'è la necessità di affrontare una procedura fallimentare che dobbiamo chiudere nei tempi più brevi possibili per fare ritornare la società di gestione dell'aeroporto nella normalità. In questa fase di emergenza c'è la necessità di recimulare una quantità di risorse che garantiscono la gestione, in particolare per questo periodo provvisorio che garantisce poi la chiusura. Entro il 31 ottobre il tribunale è stato accesito? Il 31 ottobre, per ora, le risorse non sono sufficienti fino al 31 ottobre perché ci sono alcuni sindaci che alcuni comuni non hanno versato. La prima questione è garantire le risorse fino al 31 ottobre. Però i comuni avrebbero dovuto già versare le somme prima, in questi mesi, perché c'era stato l'accordo della regione. E Oliverio ha detto che dovete versarle. Gli unici comuni che hanno versato sono quelli di Crotone e di Isola Capolizu. Crotone, Isola, Cutro, una parzialmente Melissa. Voglio dire, ci sono alcuni comuni che non hanno versato. I comuni che non hanno versato quello che dovevano versare fino al 31 ottobre, verseranno tra oggi e domani. 250 mila euro. E sono circa 250 mila euro. Quindi 31 ottobre. Naturalmente il ragionamento successivo è avere una quantità di risorse per un certo numero di mesi. E questa quantità di risorse inizialmente l'abbiamo determinata in circa 3 milioni. Utilizzando le royalties dei comuni costieri. Che sono un altro 8% sul 2011 che faceva parte dell'accordo pregresso. E l'accordo che abbiamo definito ieri è il 15% sul 2012 e 2013. Quindi fino al 2011 c'era già l'accordo. Adesso per il 2012 e 2013 sale il 15%. Però le royalties del 2012 e 2013 non le avete ancora incassate. L'impegno della regione convenuto proprio nella serata di ieri è che la regione anticipa queste risorse finalizzate all'aeroporto in tempi brevissimi. Ma è una tale che noi le possiamo mettere prima del 31 ottobre a disposizione del fallimento. Se non ho capito male, Oliveri ha detto che se dovessero esserci intoppi burocratici la regione anticiperà lo stesso. Non attraverso le royalties ma anche attraverso altri tipi di finanziamenti. Questo, insomma, ieri il ragionamento non lo abbiamo fissato. Tra comuni e regione c'è la disponibilità, c'è l'impegno della regione ad anticipare questo 15% il 2012 e 2013 subito, a predisporre proprio nella giornata di oggi e di domani questa anticipazione in maniera tale che viene messa a disposizione dei comuni e i comuni sono pronti a trasferirli al fallimento, alla curata della fallimentare. Quindi questa è l'impostazione. Naturalmente dentro questo ragionamento ci sta tutto l'altro ragionamento della concessione di Enac se questo esercizio provvisore avviene da parte del Tribunale o con una nuova società. Ma questo, diciamo, è il ragionamento, la risposta che in queste ore dovremmo avere da Enac che riguarda naturalmente successivamente al 1 ottobre, il periodo successivo al 1 ottobre. In questo momento questa quantità di risorse hanno una relativa tranquillità. Come lei vede non c'è un euro della regione fino a questo momento. Sì, infatti tutti i soldi comunali. Naturalmente ci aspettiamo anche che nel momento, come diceva lei, dell'emergenza e della necessità la regione faccia fronte con risorse proprie. Io ho parlato con Oliverio ieri sera, ho avuto un colloquio, mi ha chiamato lui, devo essere sincero, mi ha chiamato lui e mi ha detto che l'aeroporto di Crotone deve essere salvato, che la regione ci metterà tutto quello che è possibile. Allora, noi in questo momento naturalmente sappiamo che i comuni stiamo tentando di fare la nostra parte fino in fondo, anzi oltre quello che potremmo e dovremmo. Non tutti i comuni, perché per esempio ancora non hanno versato dal 2010 al 2011, Melissa 24 mila euro, Strongoli 71 mila euro, Crucoli 21 mila euro, Ciro superiore 44 mila euro e Ciro Marina 90 mila euro. Questi tra oggi e domani stanno versando, verseranno. In maniera tale che il 31 ottobre è assicurato, perché l'altra priorità è avere la certezza proprio del 31 ottobre. E quindi questo avviene. Questo tempo a noi ci occorre perché la regione faccia gli atti e i comuni facciano gli atti. per metterli a disposizione della curatela, i 3 milioni. Dopodiché abbiamo margini di tempo per affrontare, veloci, senza perdere tempo, per affrontare il ragionamento con ENA, che sono 100 mila euro al mese, un ragionamento con la regione che ha fatto una gara di onere di servizio con Ryanair e quindi debbono sottoscrivere il contratto Ryanair-Regione Calambo. Sono tutte risorse queste che vengono a concorrere alla riduzione delle spese di gestione dell'aeroporto. Perché è lì il problema. Se si riducono le spese, si chiude questa partita del concordato. L'aeroporto vola. L'aeroporto vola e si tende a raggiungere un equilibrio all'interno della società di gestione. Parliamo ancora dell'aeroporto. La parola a Gaetano Megna. Avete sentito il sindaco di Crotone, Beppino Vallone, che ha detto che la regione Calabria fa annunci ma non mette mano al portafoglio. Perché finora l'aeroporto di Crotone resta aperto grazie ai soldi che hanno messo gli otto comuni che sono bagnati nel mare e che quindi percepiscono le royalty. Solo ed esclusivamente con i soldi dei comuni, che i comuni avrebbero potuto spendere in maniera diversa rispetto all'aeroporto, ma che hanno fatto investimenti principalmente nel comune di Crotone a cui spetta la cifra più grossa, perché è la cifra più grossa che percepisce per le royalty. Quindi la regione fa le riunioni, fa gli annunci secondo Vallone e soldi non emette. Mano alla borsa, al bilancio della regione non ne ha messo. Anche se Oliverio, lo ribadisco, che mi ha chiamato ieri sera, dopo l'incontro alla regione con i sindaci, mi ha detto questo aeroporto lo vogliamo salvare. L'aeroporto di Crotone lo vogliamo salvare a tutti i costi. La regione, anche se dovrà anticipare con fondi propri, ma lo dobbiamo salvare. Speriamo che ci riesca, che ci riescono tutti assieme, perché la 106 non ce l'abbiamo, è una strada dove si muore con facilità, quindi è preferibile non viaggiare sulla 106 se uno deve fare un lungo viaggio. Se, a meno che non deve viaggiare, è pericoloso già di per sé utilizzarla. La ferrovia non pervenuta, anche se in Italia si annunciano investimenti consistenti per il potenziamento della linea fuorviaria. Si parla di dare alla Calabria la linea ad alta velocità, ma per la zona del Tirreno, non per la zona ionica. La zona ionica non ha neanche la bassa velocità, non l'alta velocità, ma nemmeno la bassa velocità. Quindi, niente ferrovia, niente strade di collegamento, l'unica cosa che ci resta, che ci collega, che ci consente di raggiungere l'Europa e il resto del Paese, il resto dell'Italia, in maniera veloce, è l'aeroporto. Se ci tolgono pure questo, per quattro spiccioli, perché di questo si tratta, allora noi siamo condannati davvero ad essere isolati per sempre. Un'ultima annotazione. La questione della gestione dei debiti. Allora, non è neanche pensabile che l'aeroporto continui a volare solo ed esclusivamente con i soldi dei comuni, degli otto comuni della provincia di Crotone, perché di questo aeroporto beneficiano non solo i cittadini della provincia di Crotone, ma beneficiano anche in misura elevata tutta la fascia ionica da Cariati fino a Sibere della provincia di Cosenza e anche Olt, la provincia di Catanzaro, Botricello e gli altri, perché da Crotone conviene quelle cifre, quei passeggeri così numerosi, centomila passeggeri ogni sei mesi, non arrivano solo dalla provincia di Crotone, arrivano da tutta la Calabria che può raggiungere più con facilità Crotone. Quindi è giusto che la Regione incomincia a pensare come sollevare da questa spesa esclusivamente i comuni, quantomeno anche gli altri devono dare il contributo per mantenere questa infrastruttura che serve non solo alla provincia di Crotone. Il Dipartimento regionale al lavoro ha autorizzato in forma a una nota dell'ufficio stampa dell'Aggiunta, l'Inps al pagamento di un'ulteriore mensilità oltre a quelle precedentemente liquidate nell'anno 2014 per i percettori di mobilità in deroga. E a proposito di lavoro, Turino, dei fratelli d'Italia, dice, lavoratori della Getec abbandonati a se stessi, il Ministro del Lavoro Poletti ha lasciato senza alcun sostegno economico centinaia di famiglie crotonesi, emblematica, si legge tra l'altro nel comunicato di Turino, la situazione in cui versano circa 70 lavoratori crotonesi, gli ex operatori del call center Getec, che dopo non aver ricevuto nessuna tutela da parte dei governi centrali, sono ancora una volta vittime del sistema. Prima la cassa integrazione, successivamente il licenziamento e la mobilità ordinaria, nessuna politica attiva per il reinserimento di questi 70 lavoratori e per tutte risposte l'ennesimo provvedimento governativo lesivo della dignità economica, sociale e personale di questi lavoratori. Il Governo Renzi e il Ministro Poletti hanno introdotto una nuova normativa che esclude dagli ammortizzatori sociali tutte le persone che hanno presentato istanza dopo il mese di agosto 2014, nonostante il provvedimento sia stato approvato nel mese di dicembre 2014. I lavoratori Getec, grazie a questo provvedimento, sono esclusi da ogni forma di sostegno al reddito, avendo loro inoltrato domanda nel mese di ottobre 2014, quando gli ammortizzatori erano ancora previsti, ma che il Ministro Poletti ha cancellato da un giorno all'altro. Ieri vi abbiamo raccontato di una giovane donna francese che da oltre un mese e mezzo vive sulla spiaggia di Crotone e che è stata soccorsa dai sanitari del 118, molto allertati dai vigili urbani. È trovata oggi una soluzione più dignitosa per la ragazza. Sentiamo. Sarà ospitata presso una struttura regionale la ragazza soccorsa ieri dai vigili urbani e che viveva da un mese e mezzo davanti al cimitero alla Ghiaccio, fuori, proprio all'aperto. E' stata identificata finalmente, è una ragazza di origine francese, di 32 anni, è nata a Nantes e da sei anni vive in Calabria in situazioni di grande emergenza. Da quando sono morti i suoi genitori, sei anni fa, punto, sono morti i genitori, lei non ha più avuto ragione di vivere in Francia, quindi ha deciso di venire dove fa più caldo, dove c'è il mare, perché questo ha detto ieri e questa mattina anche al comandante provinciale dei Carabinieri, il capitano Martino, della stazione di Crotone, che è intervenuto insieme al comandante dei vigili urbani di Crotone, il comandante è intervenuto ieri, poi sono intervenuti pure i Carabinieri, il capitano Martino, quindi Tonino Ceraso insieme al capitano Martino, si sono occupati di questa ragazza. L'hanno fatto visitare, l'hanno fatto portare in ospedale dal 118, questa mattina era di nuovo lì, l'hanno portata al bar, addirittura l'hanno fatto rifocillare, quindi l'hanno fatto mangiare, dopodiché è stata trasportata questa casa di accoglienza regionale della regione Calabria, che si trova a Torremilis, dove potrà stare in tutta tranquillità. E' una bella cosa, è un bel intervento, cioè quell'umanità che noi abbiamo nel DNA, nel nostro DNA, ancora una volta è intervenuta, è intervenuto e quindi per aiutare una giovane donna in grande difficoltà, probabilmente anche con un momento di confusione, perché ha perso questi genitori e non riesce più a vivere nella sua città di origine. Nella sua nazione, in Francia, è a Nantes, dove è nata. Contrasto alla produzione spaccio di sostanze stupefacenti, i carabinieri di Isola Caporizzuto hanno arrestato quattro componenti di uno stesso nucleo familiare. Da tempo i militari stavano monitorando con discrezione la famiglia Guarino, soprattutto per i continui indirivieni tra la loro abitazione, allocata nelle palazzine popolari di Isola Caporizzuto, e un piccolo possedimento in campagna. Ieri mattina è effettuata una perquisizione presso l'abitazione sita nel centro di Isola, e qui sono stati identificati il padre Francesco del 43 e un figlio domenico dell'88. Ma nel corso della perquisizione sono stati rinvenuti solo due grammi di marijuana. Ai carabinieri però non è sfuggito il nervosismo del figlio domenico, il quale con il suo cellulare inviava presumibilmente dei messaggi immediatamente cancellati dalla memoria. Poco dopo gli altri due fratelli, Bruno del 69 e Giuseppe dell'80, evidentemente destinatari dei messaggi di allarme del loro congiunto, di soppiatto cercavano di guadagnare l'ingresso in un magazzino casolare situato in località Capobianco. Da qui ne uscivano poco dopo, con dei grossi secchi, ma sfortunatamente per loro altri militari al comando del tenente Modena erano nascosti proprio lì ad aspettare chiunque si fosse avvicinato a quel magazzino che secondo l'ipotesi investigativa doveva essere il deposito per la sostanza stupefacente. Una volta iniziata la perquisizione, anche in quel sito rinvenuti secchi pieni di marijuana, un deposito in cui erano ad essiccare un nutrito fogliame di piante di marijuana e una miniserra con una decina di piante alte 3 metri di cannabis indica, oltre a vario materiale per la pesatura e il confezionamento. In tutto venivano quindi sottoposti a sequestro penale 12,5 kg di marijuana, oltre alle citate piante. I tre fratelli e i loro genitori venivano quindi dichiarati in stato di arresto per produzione e detenzione di sostanze stupefacenti. Cambiamo decisamente argomento, stamane presso la Casa delle Culture di Crotone si è tenuta una conferenza stampa per presentare il Festival Arte e Scienze i sogni di Pitagora, promosso dal Comune di Crotone e dal Consorzio di Cooperative Sociali Giobele che prenderà il via giovedì prossimo, 8 ottobre. Festival Arte e Scienze Facciamo pure il Festival nel Parco Pitagora. Sì, non solo nel Parco Pitagora, è un festival sempre legato alla figura pitagorica che diciamo inizia appunto col premio Pitagora domani sera, mercoledì 7 ottobre alle ore 17 ed è un festival che coinvolge attori, associazioni, gruppi di tutta la città e si svolge per tutta la città. Il culmine è sicuramente la Notte Bianca di sabato 10 ottobre dove appunto animeremo il Centro Storico, una serie di eventi culturali, ricreativi, aggregativi di poesia, di musica, di spettacolo che partiranno dell'Immacolata e attraverso il Centro Storico arriveranno a Piazza Castello. Quindi lì sarà il centro dell'iniziativa, lì che ci sarà? La Notte Bianca, il festival inizia giovedì al Parco con la Camera delle Meraviglie dove verranno tutte le scuole di Crotone, poi venerdì sera ci sarà uno spettacolo in Piazza Pitagora, sabato abbiamo la Notte Bianca dove ci sarà musica, poesia appunto durante il Centro Storico, anche un complesso che viene da fuori che accompagnerà la visita guidata al Centro Storico cantando, ci sarà il Teatro della Maruca, ci sarà l'Associazione della Matematica che faranno i laboratori di matematica e scienza, la BART che faranno altre cose, un concerto di musica classica a Santa Chiara, insomma una Notte Bianca in tutti i sensi. E domenica poi ci sarà Benvenuti al Parco, anche lì una giornata di festa con i giovani e con le famiglie. E poi da lunedì fino al giorno 14 tutta una serie di eventi nei quartieri e nelle scuole crotonesi. Un festival non solo fatto di divertimento ma anche di cultura, ecco perché il senso di questa partecipazione dell'assessore alla cultura del Comune di Grotone. Esatto, siamo finalmente riusciti a sintetizzare sotto la figura di Pitagora questo binomio di arte e scienza che fino ad ora sembrava quasi fossero due mondi che non si potessero mai incontrare, invece Pitagora li sintetizza perfettamente nella sua figura, quindi in queste giornate avremo tanta arte, musica, astronomia, musica più moderna e musica classica, teatro, reading, tante iniziative che insieme possono accumularsi tutti sotto il brand di Pitagora. Domani mercoledì 7 ottobre alle 11.30 presso la parrocchia del Santissimo Salvatore di Crotone il parroco Don Girolamo Ronzoni terrà un incontro con la stampa in vista della Santa Messa che sarà celebrata domenica 11 ottobre per ricordare le vittime dell'alluvione che colpì Crotone il 14 ottobre del 1996. Per l'occasione saranno fornite le informazioni riguardanti l'intitolazione alle sei vittime del disastro del nuovo piazzale antistante la Chiesa. Poco nuvoloso, visibilità ottima e vento di 16 nodi, il tempo previsto per domani su Crotone e provincia con 24 gradi, la temperatura massima prevista nella città a capoluogo è 19 la minima ed ora il bollettino nautico del Marrionio, tempo vento da nord-ovest, forza 4 in rotazione da sud-ovest è parzialmente nuvoloso, visibilità buona, mare poco mosso in aumento, tendenza vento da sud-ovest, forza 7 parzialmente nuvoloso. Bene, io ho terminato, grazie per essere stati con noi, arrivederci alle prossime edizioni. Grazie a tutti.